Quelli sono solo l'arredo, la povera casa e nel respiro. In questa casa c'è spazio per tutto ciò che fa parte della tua vita e del tuo pianeta, nel bene e nel male. Tutto ha un posto e l'accogli con amore. L'amore ti diceva che l'amore è attenzione, quindi accogli tutto con attenzione, se serve compassione o gratitudine o benedizione. E stai ancora nel respiro. Sì, io ti parlo. Qualche pensiero può esserti utile, qualche altro meno. Le mie parole nascono semplicemente da qualche spazio di silenzio in più che nasce dall'ascolto del mio respiro. Puoi lasciarti sorprendere dalle immagini e dalle parole che escono mentre entri nel silenzio dentro di te. Nello stesso tempo a un livello più profondo, le immagini più meravigliose, i pensieri più elevati sono ancora uno stadio da attraversare. Mentre semplicemente ascolti il tuo respiro. Ma in questo senso il respiro ti aiuta a meditare, sia a dare spazio a tutto ciò che fa parte della tua vita. E ora, comunque sei andata, ringraziati, anche io ti ringrazio per la fiducia che mi hai dato. E ora puoi appoggiarti allo schienale, sempre occhi chiusi. Puoi prepararti a tornare alla vita normale di tutti i giorni. Pian piano, non si accadde il tuo respiro, che il suo tempo ritorni al solito rete. Puoi anche uscire le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani. E ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie.